L'Aggiunta regionale pugliese ha approvato una delibera che dà il via libera all'accordo tra Regione Campania e Regione Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia e per la gestione della Galleria Pavoncelli Bis. La Galleria rappresenta una delle principali fonti di approvvigionamento idrico, costituita dal complesso delle sorgenti di Caposele e Cassano Irpino in territorio campano. Le acque sono trasportate in Puglia attraverso il canale principale gestito dall'acquedotto pugliese che nel tratto tra Caposele e Conza della Campania è costituito dalla Galleria di Valico dell'Appennino, nota come Galleria Pavoncelli, realizzata all'inizio del 1900. La vetustà delle opere avviò l'elaborazione di un progetto di galleria alternativa alla Galleria Pavoncelli, detta appunto Galleria Pavoncelli Bis, divenuta necessaria soprattutto dopo il devastante terremoto del 1980 che provocò gravi danni alla Galleria esistente. Tre anni fa l'individuazione del soggetto gestore era rimessa a un accordo di programma tra Regione Puglia, Campania e le autorità di bacino distrettuale che oggi, dopo lunghi mesi di incontri tecnici e politici guidati dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese e dal suo omologo campano Fulvio Bonavitacola, vede finalmente la conclusione. Il soggetto gestore della Galleria Pavoncelli Bis sarà Acquedotto Pugliese. Il ristoro economico che la Puglia riconoscerà alla Regione Campania è di 6 centesimi di euro a metro cubo d'acqua. Il trasferimento annuo di acqua dalla Campania verso il territorio pugliese e lucano, gestito da Acquopi, si può mediamente stimare in un massimo di circa 150 milioni di metri cubi. Il ristoro complessivo risulterebbe pari a un massimo di circa 9 milioni di euro annui, complessivi del 50% dei canoni di concessioni pagati dalla Regione Campania, ammontanti a circa 70 mila euro e dei trasferimenti per oltre un milione e mezzo di euro oggi indirizzati ai comuni di Caposele e Cassano Irpino, sulla base di convenzioni storiche. Un passaggio storico, un traguardo nazionale che lega ancora una volta due grandi regioni del sud intorno all'acqua. La risorsa più preziosa è il bene di cui abbiamo davvero tutti quanti capito il valore primario in questa estate di siccità e eventi estremi, ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Questo faticoso risultato si propone come paradigma di ciò che l'Italia e il sud devono saper fare se vogliono marciare spediti sulla strada della modernizzazione e dell'infrastrutturazione per la diffusione e l'accesso ai beni primari.